480.000 studenti di nuovo a scuola in Toscana. Alcuni di ritorno, altri per la prima volta, altri di passaggio da un ciclo a un altro di istruzione. Corsa a zaini, astucci, diarie e cartelle ormai ultimata per il nuovo anno scolastico che terminerà come stabilito dal calendario regionale il 10 giugno del prossimo anno. Anche per il nuovo anno scolastico la Regione Toscana ha attivato una serie di misure per l'istruzione e per il sostegno alle famiglie degli studenti, a partire dai nidi. Noi investiamo con il bando per i nidi circa 11 milioni di euro, che sono veramente tanti, di risorse regionali e comunitarie, per sostenere la gestione diretta e indiretta dei comuni e l'acquisto di posti in strutture convenzionate. Quindi con un livello di qualità che vogliamo tenere molto alto, anzi l'asticella la alziamo continuamente, ma cercando di dare risposta a tutti, quindi di azzerare le liste d'attesa. In Toscana, la Toscana è una delle regioni più virtuose, proprio in virtù dell'impegno che ha sempre avuto su questo fronte, su questo versante, il 36% nel 2017 di bambini da 0 a 3 anni è andato al nido come un coso frito di servizi educativi per la prima infanzia. Il nuovo anno scolastico porta con sé novità importanti sul fronte degli aiuti alle famiglie dei bambini e dei ragazzi toscani, con il pacchetto scuola e cui i parametri sono stati resi omogenei su tutto il territorio regionale. Abbiamo uniformato a livello regionale, nel senso che prima, a seconda delle province, quando erano le singole province ad occuparsene, con lo stesso ISEE magari un cittadino poteva arrivare ad avere il contributo in una provincia e non in un'altra. E questo, sinceramente, adesso che la programmazione a livello regionale lo abbiamo eliminato e abbiamo equiparato praticamente il livello ISEE a quello statale e nello scorso anno tutti quelli che avevano i requisiti in tutto il territorio regionale sono stati accontentati. Altra novità, da quest'anno l'erogazione del contributo è stata anticipata all'inizio dell'anno scolastico, per rendere tempestivo l'aiuto alle famiglie degli studenti. Quando sono arrivata si erogava nell'ultima parte dell'anno scolastico. Io, anche come dirigente scolastico, l'ho sempre vista, questa è una struttura da cercare di eliminare perché una famiglia che ha bisogno di acquistare i materiali didattici, i libri di testo, lo deve fare subito all'inizio della scuola, quindi in questo periodo. E quindi abbiamo iniziato ad anticipare sempre di più e quest'anno contiamo di erogare entro il mese di ottobre, quindi veramente nella primissima parte, per arrivare l'anno prossimo ad erogare proprio all'inizio della scuola. Quindi, insomma, è un percorso, anche di questo percorso siamo molto soddisfatti perché crediamo che sia una risposta concreta nel momento in cui serve a tante famiglie che hanno bisogno del nostro contributo. Una delle sfide più importanti da vincere resta sempre quella della dispersione scolastica. La Toscana, su questo versante, ha già fatto molto, conquistando risultati importanti. Nel 2014, infatti, la dispersione superava il 17%, in linea con il dato nazionale. In pratica, un ragazzo su cinque usciva dal percorso scolastico senza aver raggiunto il traguardo finale. In tre anni le cose sono molto cambiate. Nel 2017, la dispersione scolastica in Toscana si è assestata al di sotto dell'11%, quindi siamo a poco più del 10,7%, 10,9%. Quindi ci siamo rimessi in linea con la media europea. Quindi è stata la regione italiana che ha avuto un calo più drastico della dispersione. Questo per noi è un successo. Naturalmente non ci accontentiamo, perché ogni ragazzo che si appresta a entrare in campo in una partita che si giocherà nella società della conoscenza, che non ha gli strumenti adatti, è destinato a stare in panchina. Quindi questa è l'anticamera dell'esclusione sociale. Quindi per noi questa è una priorità. Continueremo a lavorarci, come abbiamo fatto in questi anni, con lo stesso impegno e con la stessa determinazione. Anche per il nuovo anno scolastico, la lotta alla dispersione resta un obiettivo prioritario e gli strumenti messi in campo dalla regione per contrastarla sono i progetti educativi zonali. Ecco di cosa si tratta. Finanziamenti con cui andiamo a finanziare non le singole scuole, ma le singole zone educative, affinché possano fare, possono coinvolgere naturalmente le scuole, in progettazioni non tanto frammentate, ma che abbiano un significato proprio territoriale. Quindi non so, scuole aperte il pomeriggio, recuperi, ma anche finanziamenti per progetti che contrastino il disagio, che purtroppo è sempre più frequente, attività di supporto. Però ogni territorio deve scegliere quelle che sono le proprie strategie e fare un'azione per limitare la dispersione scolastica in quella zona educativa. Perché anche sul fronte della dispersione i dati indicano che la Toscana non è tutta uguale. Ci sono zone in cui le percentuali sono infatti più alte rispetto ad altre ed è qui che intervengono le misure adottate a livello regionale a cui si devono affiancare quelle sui singoli territori. Io credo che sicuramente la regione debba avere e va molto fiera del ruolo di programmazione che deve essere appunto a livello unitario regionale. Però poi credo che per i singoli interventi, noi siamo convinti che per i singoli interventi ci vogliano degli ambiti che sono sovracomunali ma subprovinciali, ecco, tanto per capire. Quindi degli ambiti in cui più comuni si facciano un tipo di programmazione che sia unitaria proprio per potersi anche correlare meglio alla filiera produttiva e quindi capire anche quelli che possono essere gli orientamenti da dare agli studenti. Tra le novità dell'anno scolastico 2018-2019 ci sono le misure attivate per gli istituti professionali per i quali proprio quest'anno partirà la riforma e sui quali la Toscana punta molto finanziando specifici segmenti formativi per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. E poi c'è l'alternanza scuola-lavoro su cui la Toscana punta molto mettendo in contatto con le cosiddette alleanze formative, le imprese, con le scuole e con l'ufficio scolastico regionale. Iniziare a vedere come ci si relaziona nel mondo del lavoro, come ci si comporta, che cosa vuol dire avere un obiettivo comune, lavorare in gruppo, ecco queste sono tutte competenze che difficilmente i ragazzi possono riuscire ad acquisire in un'aula scolastica. Quindi io mi sono sempre espressa a favore. Parimenti però ho anche sempre detto che l'alternanza per funzionare, per essere utile ai ragazzi, quindi per rappresentare un segmento del percorso formativo che dà un valore aggiunto al percorso stesso deve essere un'alternanza di qualità, cioè deve essere un'alternanza che non sia la semplice formalità in qualche modo da completare ma che sia veramente un'esperienza utile che porta qualcosa nei termini che dicevamo prima agli studenti e anche ai docenti che si relazionano al mondo del lavoro e quindi hanno un aggiornamento continuo. E ora all'opera per rendere tutti questi provvedimenti parte di un percorso che prepara al lavoro e alla vita i giovani toscani. Voglio rivolgere ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutti i docenti, al personale scolastico i miei migliori auguri di buon anno perché al di là di tutte le difficoltà siamo tutti appassionati di scuola, io appunto sono una malata di scuola e credo che davvero la scuola sia il futuro, quindi la scuola appartiene a tutti noi e sia l'unica speranza di, ripeto, di futuro migliore per questo paese. Grazie a tutti i nostri spettatori